Neanche il tempo di riprovare l'emozione del ritorno a scuola che gli studenti napoletani hanno dovuto fermarsi di nuovo. Oggi scuole chiusi a causa dell'allerta meteo arancione diffusa dalla protezione civile. Dopo il covid ora ci si mette il maltempo a condizionare la faticosa ripresa degli istituti scolastici. E ad Avellino e Benevento continuano le proteste dei genitori per il caos di questa ripartenza. Nel capoluogo irpino le mamme di due classi del quinto circolo Palatucci non hanno fatto entrare i loro figli e hanno incontrato il sindaco Festa. Non ci sono, dicono, le condizioni di sicurezza minime nei locali della scuola di via Scandone. I nostri figli fanno lezione nella sala mensa. Nel refettorio quindi con già precedenti problemi di insonorizzazione inesistente, riscaldamento pessimo, un seminterrato. Quindi andiamo a vedere se ci sono tutte le caratteristiche per far stare dei bambini. Non più 20 minuti come quando stavano a mensa ma 5 o addirittura 8 ore. È inammissibile e assolutamente inconcepibile dopo sei mesi che hanno avuto per prepararsi. Non possiamo mettere i bambini a mensa come fosse una soluzione giusta. Noi siamo venuti innanzitutto per la sicurezza che manca in quella scuola. Non ci sono percorsi, non ci sono entrate e uscite. Da un'unica entrata entrano tutti. Quindi ieri primo giorno assembramento totale. Ci ha rassicurato in questo e inizierà molto probabilmente nell'immediato con un sopralluogo, con una presenza attiva. A Salerno la scuola aprirà il 28 settembre ma dai dirigenti è già arrivato l'SOS per la mancanza di almeno 24.000 banchi monoposto. Ad Agropoli il dirigente del liceo scientifico Gatto ha fatto sapere che è slittata l'annunciata consegna dei banchi per un errore del MIUR e dunque rischia di saltare la ripresa delle elezioni.